Mike TV Il Principe Vegeta Il Signor Wonka aveva inventato un sistema per trasferire una deliziosa tavoletta di cioccolato Che doveva essere enorme ma va bene Di prenderla e mangiarla direttamente dallo schermo E' impossibile e la potenza necessaria qui varrebbe nove bombe atomiche Ma persino quando l'invenzione del Signor Wonka dimostrò che l'impossibile era possibile Per dindirindina E funziona così praticamente con qualunque tipo di cioccolato A Mike TV questo non bastava Oh non capisce cosa ha inventato E' l'invenzione più importante della storia mondiale E' un teletrasporto idiota No 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 Prosto la televisione Spero solo che rimanga tutto intero Talvolta solo la metà dei pezzettini esce dall'altro capo del sistema E beh certo E mentre guardavano lo schermo Charlie ebbe la netta sensazione che i suoi servigi sarebbero stati necessari Devo ancora fare lo schiavo Madonna quanto bianco Ancora ste sferre della morte Madonna non viene alimentata a dovere Chissà dove potrebbe apparire quell'orrido ragazzino Una sitcom Il telegiornale della sera Persino uno spot di cibo per gatti Vedi cosa puoi fare eh ragazzo Comunque Quello che stavo per dire è Ma una cosa che mi sono sempre chiesto della ChocoTV in sostanza è Ma se io registro Al tempo Videocassetta Questo pezzo dove appare la cioccolata Tu puoi infilare il braccio Prendertela Io posso farlo all'infinito Cioè nel senso Ritorno indietro con la teleca Con la videocassetta E la riprendo quante volte voglio E mi faccio la scorta mondiale di cioccolata Io credo che Non sapremo mai la risposta Ma secondo voi Il signor Wonka faceva solamente dolci O Faceva anche qualcosa di salato Tipo Popcorn E patatine Intanto dobbiamo prendere Cinquanta Caramelle Intanto mi metto nella bolla Però sto livello è Mega bianco Faccio fatica a vedere le cose Dov'è Vieni qui Dov'è il robot Ecco fatto No Fermo Grazie Ecco qua Comunque Allora abbiamo le postazioni Vedo Delle zone da riparare E delle piccole porticine Ma è troppo bianca sta stanza Non vedo niente Fanno male le retine Allora Un palumpa non ne vedo Vedo solamente Quello Ah ho sbagliato No Mi faccio esplodere Così Ecco appunto Vai Charlie Vai verso la luce Ok Eccoci qui È andato persino a tempo Con la musica Ah Charlie Maledetto Ragazzino Dunque Quindi 20 zuccherini 20 cioccolata E 10 di Martelli pneumatici Io intanto Vabbè Io intanto Prendo tutto quello che trovo Poi Vediamo Appunto Ehi Di qua Bravo Seguimi Dicevo Vediamo che cosa Ci serve Tu non sei Quell'elettricista Tu sei Ti puoi riparare No Si Tu sei Boh non lo so Ogni volta mi dimentico Qual è che fa che cosa Ok Dobbiamo portare Tre di qua No Non andremo molto lontano Con quei robo afferratori Di mezzo E una volta eliminati Rilasceranno la Wonka Di cui hai bisogno Una cosa dopo l'altra Hai quasi finito Devi ancora cominciare È la cosa più poetica Che abbia mai sentito dire Willy Wonka Ti giuro Kaboom A parte che sono morto Anche io Dov'è Vai a prenderla Anche se servirebbe più a me Che a loro Dove dobbiamo metterla? Qua dentro? Ah la dentro Ok Lascia stare Il mio Il mio A parte che raggio C'hanno di esplosione C'ha un raggio D'esplosione Pazzesco Allora Visto che è ancora lì La Wonka Mimma Vieni Vai a prenderlo Ti Dispiacerebbe restare fermo? Vai a picchiare Quel coso lì Aspetta un attimo Ecco qua Tieni Kaboom Sai che cosa? È scomodo Perché È scomodo Perché Ecco qua Lascia in pace Il piccolo Frankie Ho deciso che Quell'umpa-lumpa Si chiama Frankie Prendilo No Di là Di là Dove vai? No La caramella La Wonka Mimma Si può riparare Io intanto Come mi ha preso Lascia in pace Frankie Tu Oh Fantastico Si può fare Ma scusi Non ne avevo già prese tre io? No La caramella La Wonka Mimma Ma porca Pensacola che sono scemo io Eh Va bene Mi ha fatto molto ridere che sei andato così Dunque Io intanto Fisco di prendere tutta la roba E ora Mi sembra che possiamo proseguire Madonna mia Che slancio Comunque Mi sa che possiamo proseguire Giusto? Charlie? Oh Ma se mi butto di sotto Ah così? Dobbiamo aspettare Ah forse però aspetta Non credo di dover salire Dobbiamo salire ancora di più? Ah Non me l'aspettavo ti giuro Sta musica però è terribile Sta musica sembra che Che sta per morire Charlie Vabbè che Potrebbe essere anche vero eh Quindi Quattro Wonka Mimme Prima di iniziare Solita routine Ecco qua Andiamo A prendere Tutti quanti gli oggetti Quindi Siamo già A quattro martelli E Con questo Dieci cioccolate Ok Gli zuccherini Dovrebbero esserci tutti O meglio Dovrebbe esserci tutti Diciamo Quelli che troveremo Nelle prossime stanze Non dovremmo avere problemi La cosa che più mi preoccupa Ovviamente Sono le cioccolate Perché Potrebbero essere Facilmente Missabili Le caramelle Bene o male Sti cacchi Sai cosa Avrei bisogno io Di un po' di Di Wonka Mina Potrei Morirci Al prossimo Robottino Oh Aspetta Vieni Di qua Ecco qua Altro martello Grazie Dunque voi due Con me E Con me E voi due Andate a lavorare Perché prima Lei Ah vabbè Effettivamente Sono due cose Diversi Però Si può riparare Allora Io intanto Metto già qui Vediamo Questo E i robottini Ora si animano Si gioco L'avevo capito Grazie Dicevo Ecco qua Kabum Borca Troia Andate a prendere La Wonka Mina Dove è andato Dove è andato Che giro sta facendo Quel Lumpa Lumpa Ma Non darla a me Bravo Vai Vai direttamente Dove serve Preso Dove è andato L'altro Vai a prenderla Proprio lì Cos'è stato Che è stato Sto rumore Da pagliacci Ehi Il piccolo Frankie Lascialo in pace E io sono morto Dai Charlie Però Ripigliati Dunque Tu 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 Di qua Vieni Vai a prenderla Si può fare Perfetto Dai La nostra morte Non è stata Vana Kabum Ma che raggio Ci hanno Ste esplosioni Maledizione Vai a prendere Quella Wonka Mina E' andato A prendere La caramella Vai a prenderlo Tu dai Grazie Wow Grande Ok Ci siamo Ecco Ecco qua Comunque Mi chiedevo Chissà se il signor Wonka Fa anche del salato Apriamo di nuovo La vetrata Rivoliamo Facendo i ruttini E via Non l'hai neanche bevuta Questo Questo rutto Era gratuito Charlie Vai Charlie Nel non tornare Nel non tornare mai più Ecco Oh Giù 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 5 Lo immaginavo Dobbiamo controllare Se esatto Non abbiamo Lasciato Da nessuna parte Cose Più lo riguarda Adesso Charlie Di questo gioco Particolarmente Più mi ricorda Herbert Ballerina Mi ricorda Herbert Ballerina Qualche anno fa Perché adesso è un po' Diventato un po' Più grosso Ma qualche anno fa Herbert era Rachitico uguale Mamma mia Allora Tu Poi Tu E infine tu Io Prima Esatto Vado Proprio lì A prendere tutti gli oggetti Poi ci occupiamo Del macchinario Ah sono in 4 Perfetto Vieni Ce n'è per caso Anche un quinto No Mi sa di no Ok Sai che però Mi sa che Siamo già alla fine O di questo livello Del tutto O di questa sezione Perché siamo Già Esatto A 20 di questi 10 martelli Le cioccolate Ci sono tutte Mi sa che abbiamo finito Questo è l'ultimo pezzo A meno che Un po' come Augustus Non ci sia Un'altra sezione Dopo questa qui Mi sa che Siamo arrivati Alla fine Ecco fatto Credo che tu abbia raccolto Tutti gli ingredienti In questa stanza Charlie Di nulla Dunque Uno di voi Va da riparare questo Noi ci trasferiamo Già qui al macchinario Mettiamo il bombone esplosivo Letteralmente Bombon E Sì 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 dai Aspettiamo Che 5 robot Escano fuori Vai a prendere La buon cammina Dove stanno andando tutti Tutti e 5 Per prenderne una Kaboom Perfetto Vai Ehi Si può fare Ehi Che stronzo Mollalo Vai a prendere la buon cammina Tu Cacchio Kaboom Qualcuno Mollalo Andate a prenderle Si può riparare No le caramelle Le buon cammine Lasciali in pace Allora queste me le prendo io Buon cammina Buon cammina Cacchio No le caramelle Si può riparare Le buon cammine Vabbè dai siamo a due Pensavo molto peggio Vai a prenderla Vai a prenderla Questa Questa Bravo Vai a prendere anche l'altra Proprio lì Vai corri Sei l'ultima speranza che abbiamo Tu C'è l'uncione in pace Vai 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 Prendila Prendila Non a me Si può fare Dentro il macchinario Quella Si può riparare Vai a prenderla Ecco fatto Kaboom Andate a prenderle Si può fare Prendete le buon cammine Buttatele là dentro Proprio lì Tu con me Perché sei qui a fare niente Vai Si può fare Qui Qui Non darle a me Buttala dentro Buttala dentro Pasquale Si può riparare Vai a prenderle quella buon cammina Oh finalmente È andata Mamma mia Terribile sta parte Che dici Abbiamo finito? Secondo me No Ah siamo arrivati Davvero alla fine Ok Vai Charlie Spezzati le gambe Scendendo Ma ho preso danno Cioè Credo di sì Però non ne sono sicuro E vai con l'armatura L'ho missato Perché c'è troppo bianco E non vedo Ecco qua Vai Morto? C'è qualcun altro? Si che c'è Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dedizione Allora fermo Proviamo a distrarlo Uno e Proviamo A farlo esplodere Kabum Dovremmo essere a posto Uno, due, tre, quattro E cinque Perfetto Tutti in posizione Power Ranger Dunque Tu uno Due Dai anche tu Tre Quattro E Uno Cinque E ora Tutti alle postazioni Dobbiamo recuperare un bambino fastidioso Quindi Uno, due No, di là Proprio lì Dai ragazzi Si può riparare Però Andate a lavorare Questo è quello che dice Saidonia Ai suoi montatori nella cantina Ah rega Però Si può riparare Dai non è difficile Si può fare Dovete andare in una cacchio di postazioni Stare lì e lavorare Sono letteralmente diventato Saidonia Con Guber e Pizzone Cacchio Aspetta C'è il coso là da riparare prima Di qua Vieni con me tu Non l'avevo visto Cioè o meglio Si l'avevo visto Ma mi ero dimenticato Ehi Qua Si può riparare Fammi vedere se è dall'altro lato Ok l'altro lato è a posto Vieni con me ora E Mettiti qui Si può fare Dai sei l'ultimo E siamo Tutti quanti pronti Vieni con me Vieni con me Vieni con me ... Loro ... Vieni con me